Grande iniziativa da parte dell'MD che propone per i suoi clienti il servizio del bus a navetta gratuito. Il calendario di marcia prevede per il lunedì la destinazione per il punto vendita di Casalvelino Marina, il martedì destinazione Vallo Scalo, il mercoledì prevede come destinazione il punto vendita di Agropoli, il giovedì invece il bus sarà diretto al punto vendita di Vallo della Lucania, anche il venerdì la destinazione sarà sempre a Vallo della Lucania, il sabato invece la destinazione del bus interesserà il punto vendita di Agropoli e infine la domenica il bus accompagnerà i suoi clienti al punto vendita di Vallo della Lucania. Per prenotare occorre chiamare al numero 347 99 17 728, è possibile inoltre prenotare ed inviare i propri dati anche tramite whatsapp o consultare la pagina facebook navetta MD supermercati gratis. Il servizio è attivo tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio, potranno soffrire gratuitamente del servizio navetta tutti i clienti maggiorenni ed i minorenni solo se accompagnati da genitori o parenti di primo grado, in caso di necessità l'autista darà un aiuto nel carico e lo scarico della spesa.